Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, sabato pomeriggio due cortei in città, in centro da Piazza Vittorio a Porta Pia, a Cinecittà da Largo Spartaco a Via Pietro Silva. Sono previste temporanee chiusure al traffico e modifiche per bus e tram i dettagli su romamobilita.it. Sempre sabato pomeriggio manifestazione politica a Piazza del Popolo, chiusure al traffico anche su Via del Corso, Via di Ripetta e Via Ferdinando di Savoia.